Oh mamma mia, guarda quanti sono! Sono tutti riaffamatissimi! Le ho visti, le ho visti! È la piscina più cattiva che io abbia mai visto, spiattetta a non caderci, eh! Assolutamente! Ah, no, no, cosa fa? Eh, attento! Per fortuna mi hai buttato giù soltanto qui! Dai, Luca, non abbiamo tempo da perdere! Dobbiamo andare avanti! Ma c'è un parkour! Ma dove si va? Ma, ma Luca, ma scusa, ti sei già dimenticato perché siamo qui! Qui? Dobbiamo entrare in queste stanze per bloccare tutti gli spawner! Dai, su, diamoci la mossa! Eh, lo so! Lo sai che se cadi qua è un bel problema? Ah, ti puoi sedere, guarda! Oh, ti puoi sedere! Ma non c'è problema! Che spettacolo! Ah, aspetta, è che è un po' difficile! Ah, dannazione, no! Porca miseria! Espi! Oh no, no, no! Oh, sono tantissimi! Corri! È come, corri! Te lo guardo tutti verso di te! Ti distraggo! Beh, alcuni sono distratti di seguire te per fortuna! No, 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 no! Oh no, è un po' problematico! Come situazione? Siamo dentro! Assolutamente, vai! Prima che cadi di nuovo! Piano! Quanti super cattivi diversi ci sono nella piscina? Cinque, sette, sei! Ah, intanto Luca spacca assolutamente lo spawner! Immediatamente! Ma no, no, è un piccone! Vado a prenderlo! Ma come non ha... Ma dai, ti avevo detto di portarti il piccone! Arrivo! Eccomi qua! Bravo! Spacca lo spawner! E attento a non cadere, che possiamo cadere anche di qua! Cos'hai fatto? Cos'hai buttato? Oh, erano i pezzi dello spawner! Comunque dobbiamo scegliere SP! E dobbiamo scegliere bene! Assolutamente! Quanti cattivi diversi ci sono nella piscina? Allora... Dai, dai un'occhiata Luca! Quanti ce ne sono diversi? Allora vedo... Freddy, Momo, I... Dai! Su! Non andare a caso! Prova a vedere! Contali! Contali Luca! Jason, Momo... Eh, 72! Come 72? Dai, su! Saranno... Sette! Mi sa che sono abbastanza! Ok? Io mi butto Luca! C'è tipo una... Una presuppata... Dannazioni! Non c'è che una risposta sbagliata! Eh, ma non sei, Espi! Se mi aspettavi non saresti morto! Oh! Va beh! Dai! Ti ho assomato una nota così male! O che succede? Cos'è questa cosa? Oh! Perché stai quando dov'è... Oh te! Oh Luca! Cosa hai fatto? Scegli a scendere! Ma come bisogna scendere? Oh oh! Oh oh Luca! Ah! Che bella situazione! Tannazione! E io sono morto! Avevo abbastanza vita! Ah! Sono caduto sulla raggiatela! Ma come sei caduto sulla raggiatela? Luca arrivo! Oh piano! Ma bisogna cadere qui! Ah! Chi è che mi ha colpi? Oh no! Oh no! Mi hanno buttato sul blocco Luca! Bisogna subito! C'è uno che vola! Aspetta vediamo se riesco a recuperare la situazione! Salta! Salta! No! Ok Luca! Bisogna saltare di segno in segno! Ok? Eh lo so! Quindi di qua! Quello l'avevo capito! Ma non è mica così semplice! Eh vabbè provoci lo stesso! E poi... Ok questo è facile! Ah! No! Sono finito! Non puoi fare così! Espi! Ah! Sono finito attraverso il blocco! Guarda come cosa mi è successo! Aspetta! Vabbè io vado! Ciao! Ci sono! Ti aspetto Espi! Arrivo! Ah! Ma difficile questo salto! Attento lì eh che è difficile! Ah! C'è l'ha fatta! Ok adesso sull'altra scaletta! Ok piccoli passi! Sto arrivando sto arrivando qua! Wuh! Sali! Sali! Ok forse siamo arrivati! Eh vabbè pure! Alla prossima! Andiamo! Ah ah! Vieni vieni! Via 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 via! Ok abbiamo superato anche questa sfida! Spacca lo spawner! Eeeh! Espi! Mi sa che questa è la casa di Granny! Comunque vedi quella era quella di Baldi dove c'è stata una domanda! Qui mi dice prestare non c'è nulla! Mi sa che parte l'indovinello il fatto che non c'è nulla in questa stanza! Guarda con molta attenzione! Eeeh! Oh aspetta! C'è un blocco! C'era un blocco in più qui sotto Luca! Un con una leva nascosta è la nostra occasione! Hai visto Granny che nasconde le cose in casa? Eeeh! C'è un problema! Cosa? Che par... Oddio! Ma queste cose da dove arrivano fuori? Dai Luca affrontali! Fai qualcosa! Fai un parkour! E sono un po' resistenti! Dai Luca! Non cadono! Va bene! Devi buttarti allora! Vai! Oh! Ah! 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 Oh dai! Butta più! Attento! Ah! Ma no! Ma porca miseria! È andata male! Ma mi sa che... No aspetta! Ma sbaglio! Oh guarda! Non sono ostili! Possiamo pure buttare giù! Ma come no? Ma sono ancora bloccati! Mi sa che sono... Non sono in modalità aggressiva! Andiamo! Allora mi sono spaventato per niente? Sì! Seguimi Luca! Vediamo cosa c'è a questa parte! Cosa c'è qui? Ah! Ci sono un sacco di mini animatronica! Altro che... Ah! Questi sono aggressivi! Sì! Luca non girarti! Perché a quanto parlo la casa di Granny è uscita! Una piccola sorpresina! Urca! Ecco metterla dalla spada! Esatto! Ah! Da chi è che mi ha colpito? Eh vabbè ma non è giusto! Ok Luca non perdiamo altro tempo! Sgancia la spada per favore! Vabbè faccia! Arrivò lì! Vieni! Attento alle spalle! Ma cosa fai? Ma guarda attento alle spalle! Ah! Porca miseria! Oh! 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 Ma guarda quanti sono! Porca miseria! Accoppoli! 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 Ah! 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 Attento che c'è anche i Foxy lì nell'angolo! Prendilo! Hanno lasciato cadere qualcosa! Ah beh il Foxy è buono! Uh! Guarda cosa hanno lasciato cadere! Questo spacca questo! Bravo! Tu spacchi quello nel frattempo! Io trafito la leva! Perché si sono ripresi! Ma andiamo Luca! Via! Vai! 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 Attento! Attento! Le pareti sono di acido! Mi ha spinto! Eh non è colpa mia! Scusami Luca! Si tocca sei troppo leggero! Ok Luca! Ok! È stretto ma è fattibile! Ah! Luca! Questo è un salto con i blocchi sopra la testa! Dai! Non lo sai fare? Ma non l'avevo visto! Non ce la farò mai! E vabbè dai Luca! Basta fare! Ah! No! Sono finito nell'acido! Ok! Sono vivo! Sono vivo! Ok! Piano! Oh mio Dio! Oh! Sono cando! Anche io no! È giusto! È ingiustissimo! Ok! Dai! Dai! Che siamo quasi arrivati! Siamo verso la fine adesso per fortuna! Oh! Non lo scherzo! Ma qua è sempre bene di fare in peggio! Tanto spacco lo spore! Non lo male che è lì! Attento! Attento Luca! No! La corrente! No! La corrente! Porca miseria dai Luca! Ti do una mano! Ma attacco! Non serve così! Ah! È per spingerti verso... Oh no! Oh no! Forse stavo facendo peggio! È per aiutarti! Vedi? Sì! No! È troppo! È troppo! È troppo! Ahia! Mi sta picchiando! Stai buono! Stai buono piccolo hit! Porca miseria! Non c'è fatta! Io ci sto provando ma non è facile! Ah! Ok! Stai saltando la cavo meglio! È che siamo quasi alla fine! Ok! Abbiamo sorpassato! Oh! Manca poco spero! Veramente! Ma dai fammi andare avanti! Togliti! Oh no! Espi! Andiamo Luca! Corri! Ok! Sembra essere tranquillo questo posto però! Non è tranquillo! Ci sono sti cose! Cosa sono sti cosi? Ah! Siamo a superare questa botola! Oh no! Mi stanno arrivando un po' tutti! Ah! No! No! Mi continua a buttare giù! È impossibile! Ho visto come si faccia una cesta! Come c'è una cesta! Dove? Ah! Lei! Dannazione! Non bisogna combattere! Bisogna tornare avanti! Ah! Non è possibile però! Guarda quanto cattivi sono! Ok! Vediamo cosa c'entro questa cesta! Perfetto! La leva! La leva! La prima carina! La tira! Che volontà mio! Andiamo giù! Mi sono sacrificato! Staventespi! Bravo Luca! Vieni qua che c'è lo spawner da spaccare! Ti devo dire che hai fatto per nulla! Perché tanto sta rentrando dalle pareti sti cosi! Porca miseria! Prendili! Accoppoli! Ok! Oh no! Non riusciamo a far altro che sordini! Dobbiamo sbrigarci! Andiamo 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 andiamo! Cos'è sta roba? Ah! Aspetta! Questi sono! Ci si può sapere sopra! Sono tipo dei tronchetti! Ma mettiamole fa! Ah! Devi saltare! Non così magari! Ah! Che male! Ogni volta! È la fine! Espi vai! Ah! Eccomi ci sono! Fai gli ultimi spassi! Oh oh! Ce la puoi fare! Sì ma potrebbe avere un piccolo problema! Cosa c'è? Mamma mia! È cattivissimo! Jason! Espi da una mano! No! È impossibile! È troppo forte! Anche il secondo tentativo è andato male! Aspetta Luca l'hai buttato giù? Eh credo! Abbiamo buttato giù lui! Ma credo anch'io! Via via! Spacca questo! Non facciamo domande! Spaccalo assolutamente! Non c'è! Oh! Eccolo qua! Finalmente! Il meccanismo di reset! Con questo dovremmo fare una bella piazza pulita! 3, 2, 1, via! Oh! Guarda che farò! Un bel bagno di lava! Oh guarda come si stanno godendo! Bye bye piccolini! Oh! Guarda come stanno negando Luca! Attento dietro! Eh vabbè mi rispondo... Cos'è stato Jason è tornato a prenderci! Ah dannazione! Espi! Poteva andare decisamente meglio ma alla fine abbiamo eliminato la maggior parte dei super cattivi! Il mondo è un posto migliore! Ma ora gente da chiedervi una cosa importante! Mi raccomando! Lasciate qui sotto un bel commento con scritto qual è stato il vostro super cattivo preferito nella sfida nella piscina dei super cattivi di oggi perché potreste vederlo tornare in un episodio molto speciale! Nel frattempo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!